buongiorno a tutti oggi vediamo questo bellissimo coltello per pane è indicato per tutti i prodotti da forno e il filo seghettato taglia con facilità anche le croste più dure i nostri sono tutti coltelli professionali con lama in acciaio inox con l'aggiunta di cromo molibdeno e vanadio la durezza della lama serve proprio per garantire un'elevata prestazione e una lunga durata i manici sono in polipropilene conforme a tutte le normative a tossici sterilizzabili e lavabili in lavastoviglie ad alte temperature sono tutti oggetti di alta qualità prodotti a premana quindi in italia nell'alta lombardia dove sono specializzati in lame lame per forbici lame per coltelli in particolare questi sono della ditta pomoni sicuramente sul nostro sito troverete anche altri articoli sempre di alta qualità in acciaio che vi potrebbero servire andate a vedere elettronica didattica puntocom continuate anche a seguirci e iscrivetevi al nostro canale elettronica didattica ciao a presto